Riaperta al transito, ma con divieto di accesso ai mezzi pesanti, la strada provinciale 161 che collega il comune di Casalvelino ad Ascea. La strada nel pomeriggio di lunedì era stata chiusa al traffico. La chiusura era stata disposta per effettuare un sopralluogo sul viadotto da parte di tecnici specializzati e vigili del fuoco. Nei giorni scorsi era stato messo in evidenza da un cittadino del posto attraverso un video lo stato in cui versa il viadotto sul fiume Alento, suscitando anche molto scalpore per una foto che ritrae un albero di pino nato nel cemento su uno dei lati della strada e che probabilmente è lì da diversi anni. Bisognerà attendere ora l'esito delle verifiche effettuate in questi giorni per capire la stabilità e la sicurezza del tratto interessato.